Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti nuovi e bentornati agli iscritti. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene? Mostrami pesci, tendenze energetiche affettive per la seconda metà di settembre 2022. Abbiamo la carta della sacerdotessa, amici dei pesci. Periodo di canalizzazioni. Probabilmente sarà un periodo focalizzato sulla vostra intuizione o dove dovrete lavorare sulla canalizzazione, appunto, per qualcuno si tratta di un'apertura di qualche dono. Andiamo avanti, vediamo con i tarocchi che cosa vi dicono, perché molte volte la carta della sacerdotessa fa anche riferimento a delle scelte che devono essere effettuate e che normalmente sono effettuate con successo. Andiamo a vedere con i tarocchi comunque. Io vi ricordo che le letture sono di carattere generali, sono fatte per un collettivo, quindi potrebbe essere che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare nulla o voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, segno lunare o venere. Sotto nella descrizione del video poi trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. partiamo con un 4 di coppe al contrario, un 3 di denari al contrario, un 9 di denari, scusate un 3 di coppe al contrario e un 9 di denari dritto. Allora, il 4 di coppe al contrario mi dice che in qualche modo c'è una sorta di presa di consapevolezza e qui in effetti vediamo la carta della sacerdotessa. Può essere che sia arrivata una sorta di intuizione. Il 3 di coppe al contrario, normalmente parla di una relazione diciamo di amici, tra amici e una carta che parla di festeggiamento, ma qui è al contrario, quindi andiamo a vedere poi dopo con i miniterocchi di che cosa si tratta nello specifico. Può essere che non ci sia un legame proprio diciamo così forte per quello che riguarda un'amicizia. Per qualcuno fa riferimento al fatto che si sia venuti a scoprire, quindi la presa di consapevolezza per intuizione, diciamo di una relazione, come vi posso dire, di una terza energia che è implicata nella relazione. Il 9 di denari è una carta che parla di amor proprio fondamentalmente, è una bella carta, parla di appagamento, parla di del vostro desiderio di essere indipendenti probabilmente, sapete. Ok, andiamo avanti, dopo lo vediamo meglio con i miniterocchi. Abbiamo la carta della giustizia e qui probabilmente perché qualcuno si vuole sentire più indipendente perché c'è qualche cosa che c'è bisogno di tagliare con questa giustizia, c'è bisogno di mettere un equilibrio. Abbiamo un 5 di spade che ci dice che c'è una sorta di confusione mentale. Abbiamo la torre e un 10 di spade, ragazzi. Guardate qui, quello che sento è appunto che tutta questa confusione mentale vi farà un po' cadere certi tipi di sicurezze, certi tipi di certezze. È un po' come se venisse meno la vostra zona di comfort. E terminando con i 10 di spade, sento che questo sarà la fine di qualche tipo di ciclo, o all'interno della relazione, o all'interno di questa situazione, poi ognuno lo applichi alla propria realtà di vita, insomma. Andiamo a vedere con i mini tarocchi che cosa vi dicono, perché qui è un po' come il volersi divincolare da qualcuno da qualcosa. Allora andiamo a vedere per il 4 di coppe al contrario, per piacere. Abbiamo un 4 di spade e un 8 di bastoni. sento che, allora, questa presa di consapevolezza, diciamo, del 4 di coppe al contrario, fa sì che voi abbiate bisogno di prendervi un periodo di isolamento. Sono 2-4 comunque, eh? Qui si parla di un ritiro spirituale per ricaricare le pile. Si parla di guarigione da un punto di vista del cuore. Ricordatevi che il 3 di spade è il cuore trafitto e questo è il 4 di spade, ok? Quindi è quel periodo di elaborazione del lutto, mi verrebbe anche da dire. C'è qualche tipo di delusione comunque o di situazione che ha bisogno in qualche modo di essere integrata, di essere metabolizzata. Probabilmente proprio questa presa di consapevolezza. Andiamo a vedere il 3 di coppe, al contrario. Abbiamo un 9 di coppe e un 5 di bastoni. Datemi un'altra carta. asso di spade e 9 di bastoni. Qui probabilmente si è in una sorta di falso benessere. Perché comunque il 9 di coppe, avendo anche il 9 di bastoni, sento che è un po' una zona di comfort che è stata costruita con fatica, la vostra, però è anche quel tipo di... perché c'è un 5 di bastoni qui parla di discussioni fondamentalmente. Sì, sono discussioni di poco conto, però sono discussioni che comunque, insomma, danno un certo tipo di, come vi posso dire, di disequilibrio, no? il punto è che con questo asso di spade qui ci sarà una sorta di comunicazione. O qualcuno dall'alto là, nel senso qualcuno inizia a mettere i paletti e inizia a dire, ok, fino a qui mi è stato bene, di qui in avanti le regole del gioco cambiano. C'è una verità che viene a galla con questo asso di spade, una comunicazione, un dialogo e lo vedevamo già qui in realtà con l'otto di bastoni e perché qui c'è la necessità di comunicare qualche cosa. Andiamo a vedere il 9 di denari, per piacere, grazie. Abbiamo un cavaliere di spade e la carta della morte al contrario. Qui sì, per molti c'è voglia proprio di andarsene da questa situazione, di lasciare indietro che è quello che non si sta facendo in realtà con la morte. C'è più voglia di sì, di indipendenza, di prendere le proprie decisioni, di seguire anche un po' i propri sogni, mi verrebbe da dire. Seguire le proprie battaglie personali. Può anche essere che qui qualcuno vi stia assorbendo energia per le proprie battaglie, ok? E in realtà non sia una battaglia tra di voi. Perché comunque c'è un 9 di pentacolo, una sorta di carta di appagamento. Ce l'abbiamo. Ok, andiamo a vedere la giustizia, perché secondo me è un discorso di responsabilità. Chi fa che cosa? Giudizio al contrario. Giudizio e giustizia, eh? Bisogna riequilibrare, ricalibrare i vostri parametri. Infatti, abbiamo il 6 di pentacoli. Al contrario, ragazzi. Qui c'è qualcuno che sta dando troppo di sé all'altra persona. E non si riceve molto in cambio, perché la giustizia comunque è nella posizione centrale del gioco. Quindi, c'è qualcosa qua che sta mancando, vi dicevo. E' una presa di consapevolezza, anche probabilmente qualcuno non riesce, o perlomeno fino ad adesso non è riuscito a vedere le cose da un altro punto di vista. Ma vi ricordo che comunque avete la sacerdotessa. Parla di canalizzazione, parla di intuizione, parla di essere in contatto col proprio sé superiore. Andiamo a vedere il 5 di spade, perché poi sono quelli i conflitti che arrivano. Abbiamo un 6 di coppa al contrario, un re di coppe e un asso di pentacoli. Sì, ho come l'impressione che qui ci sia qualche tipo di nuovo inizio da dover o voler affrontare. Vi ricordo che qui si trattava di mettere dei paletti, no? La giustizia taglia quello che non serve più. Però qui la parte difficile è ricominciare, ok? Perché comunque abbiamo tre carte che parlano... Allora, il 6 di coppa al contrario potrebbe parlare... Ce la faccio a metterli, ok. Il 6 di coppa al contrario potrebbe parlare di qualche... Come vi posso dire? Qualche legame profondo, magari proprio con questo re di coppe, ok? E non si riesce a trovare una quadra con questo asso di denaro al contrario per far partire le cose in modo più giusto, in modo più equilibrato. Vi ricordo che qui il 6 di pentacoli era il contrario. Sì, diciamo che non c'è tutta questa armonia. Questo è quello che sento all'inizio della lettura. Si fa fatica, se vogliamo, a trovare la propria indipendenza, la propria autonomia, mi verrebbe da dire, in questa situazione o in questa relazione. E qui c'è la necessità di tagliare, come vi dice la giustizia, quello che non serve più. E che in questo momento non vi rendete conto di come sono disequilibrate le cose. Cioè, magari, non sento neanche che sia proprio un dolore, una sofferenza, quella che voi avete. Sì, probabilmente qualcuno sì, però ha visto come se fosse solo una sorta di insoddisfazione in realtà. Però ecco, tutto questo poi alla fine porta a questo 5 di spade, quindi a quello che è una confusione mentale. Si sono girate queste due carte per la torre. E io sento che qui si tratta di, sì, come vi dicevo, probabilmente ci sono certe certezze che devono cadere. Può anche darsi certe barriere che debbano cadere. Perché quando c'è la carta della torre si parla di una caduta, delle sicurezze, delle certezze. È come se si fosse sempre dato per scontato qualche cosa e alla fine questo qualche cosa cade, viene giù. Abbiamo il sole e il sette di bastoni. Qui sento che è un po' come se dovesse portare avanti voi da soli questa trasformazione, questo taglio se vogliamo. Ok, la carta del sole in realtà è una bella carta, parla di abbondanza, parla di prosperità e parla anche di protezione. Se ci fate caso, il muro che c'è qua dietro parla proprio di quello, di essere protetti. E vi ricordo che comunque avete qua un angelo con la carta del giudizio, avete un altro angelo qui, questa carta qui è l'arcano minore della temperanza. Ok, quindi anche la giustizia, avete la giustizia, si parla molte volte di giustizia divina e anche la torre comunque è una sorta di giustizia divina. I momenti torre arrivano nella nostra vita quando praticamente si sta percorrendo una strada che non è quella che fa evolvere la nostra anima, ma non è quella diciamo giusta per noi. I momenti torre sono quegli eventi inaspettati che arrivano da parte dell'universo e deviano completamente il percorso. È come fare un reset. E qui potrebbe proprio succedere questo tipo di reset, di caduta delle certezze. Molte volte non è tanto drammatica come, non lo so, la perdita di una casa piuttosto che, ma si tratta di una caduta dell'ego. Quindi rendersi conto che quello che si voleva era solo per un desiderio egoistico. Ok, quindi, oppure quando c'è l'ego si ha bisogno di dimostrare qualche cosa agli altri, quello è l'ego, no? Ha bisogno di essere nutrito in quel senso lì. E poi la lettura finisce con un 10 di spade. Andiamo a vedere il 10 di spade. Abbiamo un 6 di spade, un 5 di spade nuovamente, la sacerdotessa nuovamente, un 10 di coppia, un 4 di... Wow! È un 4 di bastoni! Ragazzi, qui il ciclo che bisogna chiudere è inerente a qualche tipo di credenza. Ripeto, secondo me la torre è un qualche cosa dell'ego. Qui c'era una sorta di aspettativa, probabilmente, una sorta di difesa, di lotta per qualche cosa che non... Come vi dico, per molte persone il 3 di coppia parla di un'energia, di una terza energia che crea questo tipo di attrito. Però sento che per molte persone è solo... questa terza energia potrebbe essere proprio l'ego. Non so come l'impressione che qui si tratti di risistemare gli equilibri all'interno di una relazione lavorativa, di un... magari una relazione di coppia già molto stabile, magari una relazione di coppia... Guardate, quando c'è la giustizia si parla di contratti anche, o comunque di questioni burocratiche. Quindi per qualcuno potrebbe anche essere una questione appunto di tipo burocratica, di tipo monetario, ok? C'è qualcosa da risolvere qui, da dover risolvere, ma arriva la torre, ripeto, e poi arriva questo 10 di spade e guardate, poi avete queste tre carte che sono bellissime. Allora queste due sono l'allontanarsi da qualche tipo di confusione o conflitto, mentre queste tre carte sono la sacerdotessa, quindi è un po' come il lasciatevi trasportare dall'intuizione, da quello che è la canalizzazione, diciamo, del vostro sesso superiore, arriverete all'appagamento e a quello che è l'unione felice. Non è detto che qui sia da tagliare l'unione in sé, ma sì qualche tipo di atteggiamento, qualche tipo di conflitto. Qui ci sono dei conflitti fondamentalmente e credo che per molte persone siano riferite a una casa, una proprietà o al fatto che magari non si sia sposati o cose di questo genere. Ci sono dei contratti di mezzo, dei fogli. Ok, andiamo a vedere per i single qualche carta in più. Il mondo, il 6 di bastoni, 10 di bastoni e la forza. Anche per voi qui si tratta di fare un cambio. Abbiamo una carta del mondo, per qualcuno si tratta di trasferirsi, ok? E vediamo che comunque c'è una sorta di evoluzione, se vogliamo, verso successo. Il mondo è una carta di compimento, di chiusura cicli, come anche il 10 di bastoni in quanto 10. Sono due carte di fine ciclo e inizi cicli nuovi. E abbiamo comunque una carta che parla di riconoscimento. Probabilmente ai single verrà riconosciuto qualche cosa. Riconosceranno qualche cosa di se stessi, perché poi c'è anche la forza. La forza parla di apertura del cuore, ok? Se vi devo dire però la sincera verità, diciamo che in questo periodo persone nuove, ragazzi, non ne vedo. Perché siete in una fase di ricostruzione del sé. È come se avessi ancora le vibrazioni che hanno delle scosse di assestamento. Ok, andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione stabile. Abbiamo il carro al contrario, il 3 di spade al contrario, e il re di bastoni al contrario. Sì, quello che vi dicevo già un po' qui, c'è qualcuno che vorrebbe essere più indipendente, e vorrebbe andare più per proprio conto, ma in realtà non c'è questa possibilità di movimento con il carro al contrario. E credo che qui ci sia qualcosa che vi fa soffrire dell'atteggiamento dell'altro. È una questione di potere all'interno della coppia. E non intendo come potere mentale, ma proprio potere materiale, perché comunque anche qui con il re di bastoni si parla di un re, di qualcuno che comunque in questo caso non ha capacità di comando, perché è al contrario. Quindi sì, è un qualche cosa inerente al potere personale all'interno della coppia, secondo me. E comunque il 3 di spade al contrario, vuol dire che voi avete una sofferenza dentro che non state comunicando. Magari ditelo all'altro. Può essere utile perché l'altro capisce di più, no? Cioè nel senso capisce che voi ci state tanto male. E soprattutto vedendo queste carte qui, per molti di voi si tratta di riconoscere che avete questa sofferenza. Ok? Perché qui c'è quello che è il non rendersi conto del disequilibrio. Andiamo a vedere per le persone che sono in una relazione diversa, quindi a distanza, in separazione o clandestina. Re di coppe. Scusate, cavaliere di coppe. La luna al contrario e il 7 di coppe al contrario. Allora, qui c'è un qualche tipo di proposta, un qualche tipo di offerta, qualche tipo di movimento, diciamo perlomeno emotivo. Però, ecco, abbiamo la luna al contrario e il 7 di coppe al contrario. E' come se venissero fuori tutte quelle che sono state le proiezioni. Ok? Sono due carte che parlano di proiezioni. Quindi quello che voi avete proiettato sulla relazione o sull'altra persona. Il proiettare vuol dire quando l'altra persona ci dice... Vi faccio un esempio stupido. Come un altro. Però... Vi dicono, non ho mai conosciuto una persona che sapesse capirmi come te. Boh. Qualcuna di noi o qualcuno di noi parte e dice, ah sì, nella sua testa intendo. E si fa pensieri del tipo, sicuramente sono la sua anima gemella. Perché mi ha detto questa cosa qui. E sicuramente con me vivrà una storia diversa da quella che sta vivendo. Perché solo io sono in grado di capirlo o di capirla veramente. Ok? Questa è una proiezione. Il fatto che vi dica che voi siate così comprensivi con loro... Non vuol dire... A parte che non vuol dire che sia necessariamente vero quello che vi dicono. Però... Al di là di quello, magari è una cosa che la persona che vi sta dicendo... Come vi posso dire... Non vede in modo cristallino. E quindi anche lì... Può essere che a causa di una sua distorsione... Vi faccia vedere delle cose, vi faccia intendere delle cose su cui voi poi iniziate a fare un certo tipo di proiezione. Quindi rimanete con i piedi per terra. Perché qui vengono fuori gli altarini. Portate pazienza e vi renderete conto... Sì, delle cose che non stanno in piedi fondamentalmente, ok? Va bene. Un'ultima carta da parte degli angeli del cuore. Intanto ci tengo a ringraziare tutte le persone che stanno sostenendo il canale. Con le iscrizioni. Voi dei pesci. Ultimamente devo dire che mi state dando un sacco di mi piace. E di visualizzazioni e di sostegno, insomma. Quindi grazie in particolar modo al vostro segno. Ok, andiamo a vedere un'ultima... Ok. Conversazioni sincere. Esprimete onestamente l'uno all'altro i vostri sentimenti. E io vi suggerirei conversazioni sincere anche nei vostri confronti. Molte volte è importante chiedersi se si fa qualche cosa per l'altro in modo pulito, puro. Cioè con amore puro. Ovvero per il puro piacere di dare qualche cosa all'altro senza aspettarsi niente in cambio. Oppure se quello che facciamo è perché abbiamo bisogno che l'altra persona ci dia una conferma magari. Perché abbiamo bisogno di sentirci accettati. Anche quel tipo di conversazione sincere secondo me bisogna fare. Perché prima si è sinceri con se stessi e poi si riesce a essere completamente sinceri con l'altro. E poi abbiamo... Uuuuh... Relazioni delle vite passate ragazzi. Vi siete conosciuti in passato. Quindi qui per qualcuno potrebbe essere... Soprattutto diciamo per il terzo gruppo. Ma sì un po' in generale per tutti perché comunque c'è questo 6 di coppe. Potrebbe essere che sia una relazione con una persona che abbiate già conosciuto nel passato. Magari è solo una relazione di lunga durata. Oppure per qualcuno in vite passate. Quindi si può trattare di qualche contratto di anima. Bene cari amici dei pesci. Questo è quello che avevo per voi. Spero che in qualche modo la lettura vi sia stata utile. Io vi ringrazio di essere stati qui con me. Vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!